Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nella lezione di oggi scopriremo insieme 60 nomi di oggetti che potrete utilizzare in cucina. Vi mostrerò le immagini e la trascrizione di ogni parola, così che potrete ampliare il vostro vocabolario e migliorare l'ascolto e la pronuncia dei vocaboli. Siete pronti? Iniziamo! Ripeterò ogni parola due volte e voi assicuratevi di ripetere con me. Forno Fornello Fornello Teglia Teglia Piano cottura Piano cottura Tavolo 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 cucchiaio cucchiaino cucchiaino posata posata scola posate scola posate tovaglia tovaglia tovagliolo tovagliolo pentola pentola pentolino pentolino padella padella piastra piastra piatto piatto scolino scodella scodella ciotola ciotola vassoio vassoio bicchiere bicchiere calice calice caffettiera caffettiera tazza tazza tazzina tazzina brocca brocca bottiglia bottiglia apri bottiglie apri bottiglie coperchio coperchio mestolo mestolo spatola spatola setaccio setaccio tortiera tortiera fruttiera fruttiera bilancia bilancia frullatore frullatore sbattitore elettrico frusta 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 estrattore estrattore centrifuga 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 apri scatole apriscatole apri scatole mattarello 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 schiacciapatate 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 tagliere, tagliere, canovaccio, canovaccio, friggitrice, friggitrice, spremi agrumi, spremi agrumi, grattugia, grattugia, mortaio, mortaio, insalatiera, insalatiera, scolapasta, scolapasta, rubinetto, rubinetto, frigorifero, frigorifero, lavandino, lavandino, congelatore, congelatore, microonde, microonde, tostapane, tostapane, lavastoviglie, lavastoviglie. Bene, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e se avete qualche domanda non esitate a scrivermi nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi aspetto nelle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!